Buongiorno e ben ritrovati su LeFonti.tv dove anche oggi dovete venire ad abbeverare non perché perderemo tempo a occuparci del teatrino della politica, parleremo di cinema grazie al teatrino della politica dove stanno discutendo fra di loro ancora su quando, dove, i coprifuoco oppure allunghiamo, oppure potremo vaccinarci al mare almeno con la seconda dose, oppure come siamo messi quei sondaggi se oggi si votasse, secondo un sondaggio dell'altro ieri, il primo partito sarebbe la Lega, il 21%, il secondo partito sarebbe Fratelli d'Italia di Giorgio Meloni col 19,5%, il terzo partito sarebbe il Partito Democratico di Enrico Letta con il 19,2% e poi distanziato al 16,8% il Movimento 5 Stelle, ma questo in base alle intenzioni di voto di un sondaggio dell'altro ieri, ieri è uscito un altro sondaggio che dice che in realtà il PD sarebbe addirittura stato sorpassato non solo dalla Ducetta Giorgia Meloni, ma anche da quello che rimane del Movimento 5 Stelle, ma a noi che ce ne importa? oggi dobbiamo parlare di cinema e lo facciamo con un signore il quale, scusate, ha mandato in libreria questo, l'edizione 2021 del suo dizionario dei film, che se l'avete visto è piuttosto pesante, trattasi di tre volumi, siamo alla 27esima edizione, una summa teologica di 9.000 pagine, pensate che uno di 2.000 pagine è riservato solo agli indici, alle filmografie, ai titoli originali, 33.000 schede, in inizio erano solo 13.000, solo, poi si fa per dire, scrivetele voi, 13.000 schede di film, ovviamente i cinefili, non i cinofili, o forse pure i cinofili per i film che riguardano i cani, vanno in solluccaro e quindi io do il benvenuto e lo saluto con simpatia a Paolo Mereghetti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. La presentazione non poteva non partire qui dal mattone, mattone lo dico in senso con rispetto, però insomma lo faccio rivedere perché è il famoso peso della cultura, in questo caso cinematografica con Paolo Mereghetti che ancora continua a scrivere e a produrre. Quanti anni hai Paolo? Non facciamo finta di non conoscerci perché... Quest'anno a settembre ne compio 72, 7-2. Ciumbia! E io ho detto che questa è la 27esima edizione del... È un po' esagerato, 27esima, sono 27 anni che esce... Ah scusami, scusami, sì, è tredicesima edizione. Esatto, esatto, perché non tutti gli anni esce, ogni tanto devo riposare anch'io. Scusa, ma quest'ultima edizione così in versione extra large, quanto tempo... È ovvio che lo dico perché è ovvio che c'è il lavoro precedente, quindi si tratta... Però a un certo punto uno deve anche... Quanto tempo ti ha assorbito questa ultima edizione? Guarda, praticamente non smetto mai di lavorare, come poi... Ho già cominciato a lavorare all'edizione 2035, non lo so, nel senso che è il mio lavoro quotidiano vedere film e fare schede, controllare, verificare, correggere, aggiungere i premi, i nuovi attori che prima erano sconosciuti e che invece cominciano ad avere una carriera per cui bisogna andare a ritrovare dove si sono visti per la prima volta, per aggiungere nelle schede delle nuove edizioni, magari cambiare i giudizi, vedere se i film invecchiano bene o male, è tutta una roba così, non smetto mai, per cui... Poi certo, gli ultimi sei mesi prima dell'uscita, sì, prima dell'uscita ci sono un paio di mesi di tranquillità perché il libro è in tipografia, ma i sei mesi che precedono sono particolarmente stressanti e pesanti. Sì, i politici direbbero sei mesi di fibrillazione, no? Quando loro hanno i problemi... Più che fibrillazione è di lavoro continuo, più che fibrillazione. tra l'altro lo dico ai pochissimi interessati, sono citato anch'io per una partecipazione a un film indimenticabile, per me, non tanto per Mereghetti, il quale, diciamo così, devo dire rispetto alla versione, almeno del 2000 ha rivisto un attimo un suggerizio, si è un po' addolcito, sto parlando di una strepitosa pellicola firmata da pingitore che si chiamava Gole Ruggenti e che era ambientato al festival, si ricostruiva diciamo lo scandalo di un festival, il festival di Sanremo e io ero un giornalista d'assalto che scopriva le magagne dietro al festival, peraltro nota vera, nel senso che io mi sono occupato dei festival veri dell'epoca, costringendo anche Biagio Agnes, che era il vecchio direttore generale, a raccontare alcune cose sui festival e devo dire che in sostanza Mereghetti lo ha stroncato e ha stroncato pure me, ma devo dire anche appunto che la pellicola Giusto per gli amanti, che ancora circola Paolo, ogni tanto su Rete 4 di notte, ogni tanto qualcuno mi manda un messaggio, sei in onda su Rete 4, te lo ricordi quel film? Spero da no. Non ho capito, scusa, hai detto? Dico, te lo ricordi quel film? Spero di no. Mi ricordo il titolo qualcosa, ma ho già dimenticato tutto, scusa. Oltre che la memoria non riesce a tenere tutto, per cui devo smettere qualcosa, butto fuori. Ecco, davanti a questo copolavoro è giusto che tu l'abbia rimosso. Allora, partiamo dalla cronaca, che io ho letto un tuo commento all'ultima edizione dei David Donatello. Ci puoi raccontare dal tuo punto di vista che edizione è stata, cosa è successo? Ho tenuto conto che poi la cerimonia, siamo in Covid, il cinema e poi ne parliamo. Però intanto, questa edizione del premio? Devo dire che è stata un'edizione dove sembrava il cinema ha dimostrato di aver voglia di ricominciare e in effetti qualche segnale comincia a arrivare. Non c'erano tanti film da premiare, come è successo per gli Oscar, un'edizione un po' minore. Però i premi sono stati abbastanza condivisibili, devo dire. Tra l'altro, non svelo niente, anch'io avevo votato come miglior film e volevo nascondermi, di Giorgio Diritti, che mi sembra veramente un film straordinario perché non è, tra virgolette, la solita biografia artistica, in questo caso quella di Ligabù e il pittore naif, ma è qualcosa di più, è una riflessione sulla fatica che si fa a inseguire i propri sogni e le proprie voglie. Quindi da questo punto di vista a me è sembrato veramente un film importante. Certo, quando c'è un vincitore c'è anche uno sconfitto, in questo caso sono stati i due fratelli Damiano perché anche il loro film era decisamente interessante. Succede, forse avrebbero potuto essere i votanti, avrebbero potuto essere un pochettino più diplomatici, votare uno il miglior film, l'altro la miglior sceneggiatura o cose di questo genere. Poi queste cose non succedono perché poi di solito uno, spesso i voti sono anche di scuderia, per cui uno difende il proprio film o il film dei propri amici o delle proprie produzioni fino in fondo, dandogli tutti i premi. Per esempio, oltre ai fratelli Damiano, mi è dispiaciuto che Susanna Nicchiarelli ha avuto due premi, se non sbaglio, quello per i migliori costumi e forse per la miglior sceneggiatura, non vorrei sbagliare. Comunque anche lei è stata una delle belle presenze di questo cinema. Poi c'è stato il premio a Sofia Loren, che forse non è stata la sua interpretazione migliore, però era assolutamente sacrosanto premiarla e partecipando, è un po' più vecchia anche di me, ha saputo trasmettere ancora la voglia di fare cinema. Mi sembra che fosse questo è il vero messaggio che questa edizione dei David voleva dare. Il cinema ha voglia di riprendere, per adesso con proiezioni ancora un pochettino complicate, non tutti i cinema hanno deciso di riaprire, però questa settimana se non sbaglio il circuito UCI, che è uno dei circuiti importanti d'Italia, che ha circa un quarto delle sale italiane a riaperto, i film cominciano ad arrivare, c'è Woody Allen, c'è The Father, che ha vinto l'Oscar come miglior sceneggiatura e miglior interprete, ci sono dei film italiani che stanno arrivando, quindi quel messaggio è arrivato al di là del fatto che uno potesse essere o non essere d'accordo con i premi. Allora, riordino alcune cose suggestive per me sulla base di quello che hai appena affermato e spiegato. Intanto ti chiedo, volevo nascondermi, biografia, film sulla vita di Ligabue, il pittore, lo dico perché il livello certe volte è basso, non dei nostri visualizzatori, però Ligabue, il pittore, grande interpretazione, a me parsa, di Elio Germano, per cui ho un debole da fruitore di film. Ti chiedo se tu ricordi però anche la versione, adesso si direbbe della minifiction, della miniserie, una volta si chiamavano sceneggiati i televisivi, il Ligabue di Bucci, di Flavio Bucci. Certo, assolutamente, è stata una piccola serie televisiva, una grande operazione, tra l'altro non dimentichiamo quando la Rai faceva anche queste cose che erano spettacolo ma anche un tentativo di cultura e con un Bucci assolutamente straordinario. Primo ho cercato di dirlo, era un approccio diverso, quella era più una biografia tradizionale, questo di Riti è qualcosa, è diverso, è un'altra cosa. Bravissimo Ligabue allora e secondo me è molto bravissimo anche Elio Germano adesso perché veramente il premio di Davide Donatello come migliore interpretazione se l'è meritato, assolutamente. Senti, in questa edizione, poi chiudiamo su questo punto, è stato dato un premio, tu giustamente hai ricordato Sofia Loren, ma anche a Sandra Milo, la quale è nota al grande pubblico adesso per essere un personaggio da rivista di gossip, ma ha alle spalle una, possiamo definirla, parte della sua vita, una solida parte della sua vita nel mondo del cinema? Oppure hai pensato che il premio non fosse così necessario? No, no, assolutamente, non è vero, come dire, Sandra Milo ha un passato di grande attrice, Pietrangeli, Fellini, poi le sue interpretazioni per Fellini sono passate in secondo piano perché ha avuto una storia, è stata l'amante, non è stato tutto quello che vogliamo, però lei è stata decisamente brava, per Pietrangeli ha fatto delle cose straordinarie, La Provinciale era proprio un grande film e per esempio anche per Rossellini, lei ha fatto una Vanina Vanini che allora gli costò un ferocissimo appellativo, un ferocissimo soprannome da parte di quel infido agente pubblicitario che è Luccherini che la soprannominò subito Canina Canini, ma invece a rivedere il film e nel dizionario lo sottolineo proprio volontariamente, lei era tutt'altro che male in quel film, anzi era piuttosto brava, quindi mi sembra un premio assolutamente meritato, il problema è che poi oggi ogni tanto si ricordano le sue storie con i produttori, Maurice Ergas, poi magari la famosa scena in televisione quando gli dissero che il figlio stava male, cose di questo genere, Ciro, Ciro e poi Fellini e tutte le altre cose, ma è stata una grandissima attrice e secondo me era giusto perché poi ogni tanto questi premi cercano di coprire delle dimenticanze in passato, perché come dire tutti i premi, mica i premi premiano soltanto i migliori, ogni tanto li dimenticano i migliori e quindi mi è sembrata una cosa molto giusta questa a Sandra Milo. Allora tu mi hai raccontato che l'idea della prima edizione del Mereghetti ti era venuto perché con l'esplosione delle tv private e quindi con l'etere all'epoca inondato di film, spesso vecchi e brutti che venivano ripescati dai magazzini pur di riempire i palinsesti, tu hai pensato che fosse il caso di fare un'agile guida, ne parlasti con Alessandro Dalai che allora era il patron della Baldini e Castoldi e che mi hai raccontato, avevi preparato a modo di esempio alcune schede, una doveva essere forse la Marcord di Federico Fellini, l'altro l'Apocalypse Now, capolavoro, sia nella versione che io ho visto al cinema quando è uscito, poi nella versione più estesa quando è stato rivisto, ma anche forse mi hai detto quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda di Edwish Fenech, perché quello che poi era un filone del cinema dell'epoca. Assolutamente sì, infatti l'idea non era quella di mettere, c'erano già dei dizionari di capolavori, Fernando Di Giammatteone aveva fatto uno molto interessante sui film che avevano segnato la storia del cinema, l'idea del dizionario era un'altra cosa, era quella di aiutare chi si vedeva sommerso da tantissimi titoli e muoversi all'interno di quel mondo, per cui certo c'erano i capolavori, c'era Marcord, c'era Apocalypse Now, c'erano cose di questo genere e però c'erano anche tutti i Frank Ingrassia, le insegnanti, tutti i film che allora riempivano i palinsesti e quelli con cui Fantozzi di notte nella famosa scena, le mutande, le mutande, Pina, quelle scene assolutamente comiche che Fantozzi prendeva in giro e che però riempivano i nostri palinsesti e quel gran pezzo dell'Ubalda è uno dei titoli, il film è così così, né particolarmente scollacciato né particolarmente erotico, però il titolo era assolutamente geniale e quindi quando ho deciso di fare delle schede di prova per far vedere come affrontavo il film, come pensavo di affrontare i film, ho messo anche quello. Sì sì, ma io tenendo merito e gloria, anche perché all'epoca ero 14enne, 15enne, quindi per la signora Fenech, ma anche per la signora Gloria Guida avevo un particolare debole, diciamo così non ero l'unico, poi rivisti adesso i film non in confronto ai film a luci rosse che sono un'altra cosa, ma anche ai film che non sono a luci rosse, le scene erotiche diciamo così di quei film in cui poi loro erano affiancati da Lino Banfi, da Bombolo rispetto a quello che si vede nei film, ripeto non a luci rosse, nei film in cui però il sesso viene dispensato a piene mani, siamo il giorno e la notte. Scusami, cinema italiano, io sento ripetere il refrain che il cinema italiano è sempre in crisi, è sempre in crisi di idee, è in crisi perché non ci stanno gli attori o perché non ci sono le parti per le donne o perché non ci sono soldi o perché non ci sono più i registi o perché non ci sono i produttori, per fortuna c'è Checco Zalone che poi fa il botto e questo dà ossigeno a tutta la filiera, è una ricostruzione scombiccherata, sgangherata, c'è una parte di verità? Una parte di verità c'è, indubbiamente il cinema italiano adesso non è il cinema italiano degli anni 60-70 quando era quantitativamente e qualitativamente un grandissimo cinema, però il discorso come sempre sono sempre un po' complicati e sfumati, se uno va all'estero, legge le riviste estere si accorge che alcuni registi italiani, Moretti, Sorrentino, Garrone sono molto apprezzati, anzi i loro film, anche Virzi per esempio per fare un altro nome, invece Checco Zalone al di là del confine italiano è praticamente sconosciuto. Qual è il problema? Il problema è che probabilmente il cinema italiano avrebbe bisogno, oltre alla legge che ha favorito il ritorno di una produzione in grande quantità, si producevano prima naturalmente della pandemia, si producevano tanti film in Italia, avrebbe bisogno anche di qualche incentivo per far sì che il pubblico aumenti il pubblico che va nei cinema, è l'unico modo questo secondo me per far tornare il cinema italiano a alti livelli. Abbiamo delle attrici, abbiamo degli attori, prima tu citavi Germano, pensa a Favino, adesso per fare soltanto dei nomi che sono anche conosciuti all'estero, abbiamo delle attrici veramente tante, non soltanto Sofia Loren o Sandra Milo, la Bellucci per esempio in Francia è assolutamente una star. È vero che forse per esempio ci manca uno star system, la capacità di esaltare quei attori e attrici e non soltanto di scadere nei gossip delle varie grandi fratelli o cose di questo genere, avremmo bisogno forse un modo, un piccolo artificio per esaltare i nostri attori. Prima citavo Sorrentino così, ma Scorsese per esempio si è preso una sbandata per Alice Rohrwacher come regista, si intende, nel senso che è un'altra dei nomi che sono sulla bocca di tutti all'estero. Il problema è proprio questo, è quello di coordinare queste cose e forse bisognerebbe ripensare, ripartire dalle sale, fare in modo che le sale crescano, che riescano a far crescere il loro pubblico, che ci sia un modo per favorire un aumento di numero di biglietti venduti, ci sono un po' di colli di bottiglia che adesso è inutile star qui a parlare, c'è una distribuzione che ogni tanto si adegua ancora a regole di vecchio stampo, di vecchio tipo. Il produttore, la produzione certo passa però abbastanza per le forche caudine di Rai Cinema, Medusa ha ridotto, che era l'altra grande Mediaset diciamo che era l'altra grande produttrice, ha ridotto abbastanza le proprie cose. Scusa Paolo, ho letto, mi pare ieri o l'altro ieri, tra l'altro Mediaset, Medusa avrebbe abbandonato definitivamente anche una serie di sale che ancora gestiva direttamente, è possibile o ho letto male? No, no, è possibile, era quando Berlusconi comprò Medusa completamente e prese anche tutta una serie di sale, c'è Chigori, sono modi di organizzarsi industrialmente che per esempio all'estero sono stati capaci di fare, ci sono dei circuiti più grandi che però rispettano delle regole un pochettino più solide di quelle che avvengono in Italia, i multiplex non possono programmare più che in due sale, mi sembra, in Francia succede questo, lo stesso film e quindi sono costretti ad allargare l'offerta cinematografica, mentre noi quando un film funziona lo mettono in 27 sale su 28, ci sono degli accorgimenti che andrebbero fatti, che andrebbero per aiutare il cinema a riprendere, succede una cosa di questo genere, in Italia adesso sembra che l'unico vantaggio, l'unico vero fonte di guadagno siano le serie o le miniserie, tutti fanno così o quasi tutti fanno così, giustissimo, le serie televisive sono un grande cespite di attenzione, di incassi e di pubblico, però bisognerebbe che il cinema continuasse, si sforzasse anche di fare delle cose positive, poi guardiamo la ripartenza adesso, i film importanti sono tutti stati rinviati a settembre e ottobre, perché i distributori dicono adesso il cinema sono chiusi un po', ci sono tante restrizioni, vedremo, certo le restrizioni ci sono, ma senza i titoli il pubblico non c'è, senza il pubblico i film non incassano, come dire è una specie di gatto che si morde la coda, bisognerebbe fare qualche intervento per favorire questa riapertura, per aiutarla un pochettino di più. Lo stesso film di Verdone che doveva uscire in sostanza quando è scoppiato il Covid l'anno scorso è stato tenuto a bagnomaria, poi se non ho capito bene… Adesso è su una piattaforma, con una furbata che ha fatto il produttore dell'Aurentis, ha fatto uscire il film tre giorni, solo nelle sue sale, nelle tre sale di Roma senza pubblicità per poter prendere lo stesso i ristori della legge. Ecco, come dire, ci sono tutta una serie di inghippi che forse andrebbero un po', ci vorrebbe forse, come dire, vorrei che il ministro Franceschini intervenisse con un pochettino più di gamba tesa su certe cose, senza paura, speriamo che le cose cambino. è vero, come dire, un produttore dice la piattaforma mi dà tanti soldi, forse questi soldi al cinema non li prendo e quindi faccio così. Il problema sarebbe appunto che se vogliamo che il cinema continui, non soltanto perché ci sono degli attori, dei registi, degli sceneggiatori, dei tecnici che devono lavorare, ma perché il cinema, io penso, faccia parte del nostro panorama culturale, contribuisca a creare un'identità culturale e nazionale italiana, così come in Francia contribuisce a farlo per la Francia, negli Stati Uniti la stessa cosa, in Germania, in tutti i paesi, ecco. Allora forse bisognerebbe cercare di favorire un pochettino, non soltanto permettere di produrre con i ristori, con il tax credit, ma aiutare anche chi si sforza di far sì che i film arrivino al pubblico e aiutino il pubblico. Allora, un'ultima domanda, siamo alle 10.27, come dicevo prima che iniziasse la diretta a Paolo Mereghetti, quando uno dice 30 minuti, ciumbia la durata di un telegiornale, i 30 minuti se l'interlocutore è competente e viene interpellato non come un tuttologo, ma sulle cose che conosce, i 30 minuti finiscono. Il cinema italiano, ho volutamente tralasciato di parlare delle produzioni americane, i blockbuster, i titoli, i remake, gli spin-off, i sequel, i prequel, non mi interessa. Il cinema italiano è stato anche famoso per la commedia all'italiana, che però tu fai finire, diciamo, con due film, uno dove si ride anche amaramente che era Amici miei e l'altro, molto più plumbeo e funereo, un borghese piccolo piccolo con uno strepitoso Alberto Sordi. Perché la commedia all'italiana è una cosa, le commedie italiane sono un'altra, corretto? Correttissimo, nel senso che quel tipo di commedia, se ci pensiamo, era una commedia che sapeva addentrare meglio la realtà e però lo faceva con una durezza anche autocritica molto forte. Pensiamo al sorpasso, tutti ridiamo per Gasman, ma il sorpasso finiva con un morto. Pensiamo alla grande guerra, un film straordinario, si rideva tantissimo e anche lì alla fine due morti. Perfino nei soliti gnoti c'era un morto. Questo non per dire che la commedia deve per forza avere un morto, ma perché la commedia usava l'ironia, usava la comicità, ma era capace anche di raccontare un mondo in una maniera molto più reale, molto più concreta, senza le battutine che funzionano in televisione. Io penso che il successo di Zalone in qualche modo dipenda anche da questo, che al di là di, come dire, che si sia staccato da quel tran tran di commedie facili e semplici che ogni tanto una voglia di vedere, si intende, ma che non hanno quella stessa capacità di graffiare la realtà. La commedia all'italiana sapeva graffiare, non era per niente consolatoria, nel modo più assoluto, anzi uscivi dal film e ti portavi dentro un pochettino di voglia di pensare, ti sei divertito, ma anche un po' di malinconia per quello che avevi visto. Invece in questo modo abbiamo delle volte dimenticato proprio come si fa quella commedia. Con tutto il rispetto che ho per i Vanzina, ecco, come dire, non sempre sono stati capaci, qualche volta sono lasciati andare a un tipo di comicità un pochettino semplice e corriva. Parlo dei Vanzina che erano diciamo la punta di diamante di un certo tipo di comicità. Io penso che ci debbano essere dei modi un pochettino diversi di far ridere, anche ricordando la grande lezione di quegli sceneggiatori, Age Scarpelli, Maccari, Sonego, che raccontavano la vita vera, ogni tanto prendendoci in giro, ogni tanto però ricordandocela. Dobbiamo chiudere, però ti chiedo due flash. Io che sono un consumatore ignorante di film, sono affezionato poi a quello che la rete chiama, in base a Wikipedia, wiki quote, wiki aforismi, perché tutti noi ci ricordiamo certi film in base ad alcune frasi che rimangono. Tu ne hai una particolare a cui sei affezionato, cioè una frase che ti è capitato di citare più volte ricordando un film? Perché poi ti dico la mia. Che fa Marchese? Spinge? Finale del Vedovo dove c'è anche Cretinetti? Cosa fai? Cosa fa che a Milano Costucalto? Il Vedovo è uno dei film che mi ha riempito più di battute. Sì, qui ci sarebbe da ricordare il Marchese del Grillo, sempre di Alberto Sordi. Io so io che si può applicare a tanti politici. Io ti volevo chiedere una cosa però, un'altra che ricordo perché la media al cinema, quando Paolo Villaggio in arte ragioniere Ugo Fantozzi sale sul palco perché ci deve essere il dibattito sul film e se ne esce con un liberatorio applauditissimo, la corazzata, che è una cagata pazzesca. La corazzata Cotionkin, non si permette di dire il nome vero. La battuta è geniale, ha fatto forse più danni di quelli che lo stesso villaggio e salce pensavano. Continua a pensare che la corazzata Cotionkin sia un capolavoro, ma però ogni volta che quella battuta ce la prendeva con un certo tipo di cultura, di certi cineforum, certe cose. Vabbè, dicendo Eisenstein. Ovviamente, l'avevo intuito. Allora, se avete tempo e voglia, portatevi in vacanza i quattro chili e mezzo del Mereghetti sotto l'ombrellone, non usate il tablet per leggere, che poi con la luce e il riflesso si sono retroilluminati, sfogliatevi i libri e sono sicuro che male non vi farà. Tra l'altro è talmente pieno di aneddoti che se siete appassionati di storia del cinema e di cinema, non vi può che fare soltanto che bene. Grazie Paolo, buon lavoro. Grazie a te. Noi ci rivediamo domani mattina alle 10, continuate a seguire h24lefonti.tv, la prima live streaming italiana. Arrivederci, buona giornata. Grazie a tutti.